L'estate a Milano, gli amici, le persone Quanta bella gente Ragazzi così Milano però è impraticabile Quanta gente c'è Permesso, scusi, grazie Permesso Sì dovrei Grazie Grazie Qua c'è un cagnolino gonfiabile che caga E il mio migliore amico Ah code beta si Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale Oggi io e Andrea Faremo un gameplay di Andre Andre Ma basta stiamo scegliendo il cuscino e ci hanno chiesto se da roma su pieno di lato io una volta con quel che si chiamava pieno ci dormivo sopra spesso adesso invece dorme di lato